Fortunato Cerlino, testimone della 18esima edizione di Pulcinella Mente. Parlando ai bambini e ai ragazzi dal palco, hai detto c'è aria di primavera, mi sono emozionato stamattina. Sì, sì, è una primavera che sento intorno a me, quando vengo qui a Napoli, sento che, sai, è un periodo molto strano questo qui, dove il male prende una forma molto forte, vuol dire che è debole. Nello stesso tempo sta nascendo, ed è sempre più forte, un movimento di consapevolezza dovuto anche al gran lavoro che è stato fatto negli anni. Ogni tanto si raccoglie qualche risultato. Quindi si cominciano a vedere i primi germogli di novità. Fortunato, questo mese di maggio che si inaugura oggi sarà molto importante per te, perché parte tra pochi giorni la seconda serie di Gomorra. Quanto c'è di nuovo in questa seconda edizione, soprattutto quanto c'è di Fortunato Cerlino, attore in questa seconda edizione che non abbiamo visto nella prima? Ma di Fortunato Cerlino c'è l'impegno, c'è l'impegno, la passione per il proprio lavoro. Rispetto ai temi, ai personaggi c'è molto poco. C'è forse il fatto di conoscere certi argomenti, questo sì. Però, grazie a Dio, forse proprio il fatto di conoscere poco dal punto di vista di questi personaggi, di come sono fatti realmente il loro vissuto, questo mi permette di osservarli ancora meglio. Quindi c'è molto di Fortunato Cerlino professionista, poco di tutto il resto. A proposito del professionista, tu nasci come uomo di teatro, c'hai qualcosa in programma, novità per la tua presenza sulle tavole del palcoscenico? Ci sono progetti che stiamo approfondendo e presto daremo notizie. Grazie.